Parlando di Eni, parlando anche di grandi opere, mi viene in mente anche quello che dicevi tu prima Andrea sul neocolonialismo, il fatto che ci preoccupiamo di ridurre le emissioni per esempio in Europa quando poi nel resto del mondo queste grandi multinazionali hanno la libertà di devastare e sfruttare corpi e territori. Questo discorso sul neocolonialismo si pone all'interno dei punti fondamentali di Rise Up for Climate Justice appunto si pone come Rise Up for Climate Justice ha come fondamento il fatto di essere un movimento intersezionale. Sì, l'idea e la riflessione, le riflessioni fatte anche attraverso le esperienze che abbiamo avuto ci hanno in maniera abbastanza diretta portato a capire e a considerare che come accennavo prima non esiste una forma di giustizia climatica senza un approccio che sia intersezionale. Noi parliamo spesso di sistema e non è possibile parlare di sistema ad affrontare magari quelle che sono le questioni specifiche di una grande opera piuttosto che di una pratica come può essere il fracking rispetto all'estrazione di gas di scisto senza tenere in conto però quello che è l'approccio appunto sistemico senza tenere in conto quelle che sono le relazioni di potere che si esplicano per far sì che ci sia quel tipo di estrattivismo, che ci sia quel tipo di considerazione della vita. E quindi all'interno di una riflessione su quella che è l'estrazione di profitto, su quello che è è l'idea di potere, il fatto di avere un approccio che sia transfeminista, che sia decoloniale e che quindi si ponga ai problemi di queste relazioni di oppressione, di queste relazioni di potere è fondamentale perché è necessaria una decostruzione profonda, quando diciamo un cambiamento radicale è anche proprio una decostruzione di quelli che sono i rapporti all'interno della società, non solo su una base puramente economica o unicamente istituzionale, ma che sia una decostruzione di quelli che sono i rapporti di privilegio, i rapporti appunto di oppressione, controllo o imposizione che avvengono all'interno della società. E per fare questo ovviamente bisogna cercare di riuscire ad avere una capacità di dialogo quanto più inclusiva e aperta possibile e avere la voglia soprattutto di costruire spazi di dibattito e discussione in maniera da essere contaminati l'un l'altro rispetto alle varie lotte che sono in questo momento fondamentali perché uno dei grandi movimenti che in questi anni ha portato centinaia di migliaia di corpi a lottare in piazza per i propri diritti e per quei meccanismi di oppressione è il movimento transfeminista e penso che come attivista climatico non posso non pormi il problema, non possono venirmi i brividi a sentire che a inizio settimana eravamo a 41 femminicidi, a fine settimana siamo già arrivati a 47 e siamo in agosto in Italia nel 2021 e questo non è un problema che si può escludere e può essere fuori da una discussione come quella climatica che vuole un cambiamento radicale del nostro esistente fondamentalmente perché quel tipo di relazioni di potere, quel tipo di prepotenza, presunzione che esiste all'interno di una cultura patriarcale, della cultura patriarcale si riproduce in quel meccanismo che dicevo prima dell'esternalità, di non tenere conto di tutto quello che non è dentro il quadrato di ciò a cui si dà valore e quindi appunto non tenere conto di tutto quello esistente che è parte fondante e fondamentale delle comunità, dei territori, delle relazioni che ci fanno stare in vita e che ci rendono possibile vivere e quindi sì l'approccio per noi è un approccio assolutamente intersezionale e che cerca di cogliere il più possibile la complessità di quello che è il mondo oggi. Rispetto a Leni e poi chiudo, appunto come dicevo prima sul punto di vista decoloniale e sul punto di vista del neocolonialismo io credo che sia ormai veramente innegabile e evidente che sta avvenendo una guerra per le risorse all'interno di un contesto di crisi climatica. Cioè ormai quelli che sono i migranti climatici, quelle persone che sono sul fronte del cambiamento climatico più drammatico, sul fronte della desertificazione, della salinificazione dei terreni e che vivono in economie già schiave di una monoproduzione che può essere di arachidi, magari mi sbaglio in Senegal, piuttosto che in altri territori, per dei meccanismi di commercio internazionale che li obbligano a non avere nessun tipo di rotazione triennale, nessun tipo di diversificazione della propria produzione, si ritrovano ovviamente nel momento in cui arriva il cambiamento climatico e colpisce quei territori là si trovano a dover migrare. Ma questo non è che non ha responsabili e questo non è che è un qualcosa che è un accidente storico o atmosferico. No, no, i responsabili ci sono. Sono quelle mega compagnie transnazionali più potenti di uno Stato che commerciano in frutta e verdura o che dall'altra parte, come Eni, commerciano nel meccanismo di un'industria fossile. E quindi il fatto di avere una prospettiva in cui si riconosce che questo ruolo, che appunto come dicevo rispetto al processo che ha avuto Eni per una tangente da un miliardo e cento milioni in Nigeria, è un ruolo assolutamente coloniale, è un ruolo che è assolutamente di estrazione. Estrazione e destabilizzazione perché se tu arrivi e hai un patrimonio netto come azienda che è più grande del PIL del paese in cui arrivi, che rapporto di potere c'è? Che rapporto di potere può esistere? Quali sono gli elementi che può avere un governo per dire no, per favore non devastare quel territorio? Per favore puoi smettere che sono giusto 60 anni che ci sono perdite delle tubature nel delta del Niger e sono 60 anni che ci sono incendi e popolazione che muore per le polveri causati da questi incendi? Ma non ha nessun tipo di... non è un rapporto commerciale, quello è un rapporto coloniale e va chiamato così perché non c'è una parità, non c'è nessun tipo di equilibrio se ci sono compagnie che detengono tutto quel potere. E quindi questo per noi è il fatto dal punto di vista decoloniale, appunto di decostruire e mettere prima in luce questi rapporti di potere che esistono e che vengono nascosti dietro un dito alla fine, perché basta andare a vedere quanti soldi, che tipo di patrimonio hanno, perché quando parliamo di Jeff Bezos io vi consiglio di andare a vedere ci sono delle piccole app, dei piccoli video che mostrano in scala con quadrettini cosa vuol dire 200 miliardi di dollari, che mi sembra se non mi sbaglio 220 che sono quelli che ha Jeff Bezos adesso. Andate a vedere perché quel video non finisce più, e dentro inseriscono quanto ci vorrebbe per curare tutti i malati di cancro negli Stati Uniti, il video è americano e quindi prendono quel riferimento là. E sono tutti pezzettini che non occupano così tanto all'interno del contesto di quella barra là. Noi stiamo parlando di un livello di accumulazione di ricchezza, che non ha nessun tipo di corrispettivo storico, ma neanche negli imperi più potenti c'era quel tipo di accumulazione. Però siamo dentro dei sistemi democratici e quindi non ci poniamo questo tipo di problema. Però lo sappiamo benissimo che avere tutti quei soldi implica una relazione di potere che i meccanismi democratici fanno molta fatica a controllare. E quindi sì, una visione decoloniale è fondamentale all'interno di quello che è Rise Up for Climate Justice. Questi temi, l'intersezionalità, è un concetto che ha attraversato anche le piazze di Freddy's for Future, un altro dei movimenti che ha riempito le città e le strade negli ultimi anni e che è stato attraversato anche dal coordinamento 31. Perché, come si diceva prima, sono fondamentali le lotte contro le grandi multinazionali, ma altrettanto fondamentali sono le lotte territoriali contro, per esempio, le grandi opere, i magazzini di Amazon, parlando di Jeff Bezos. E non solo questo, mi veniva in mente che la grande opera è una sorta di esempio molto semplice di qualcosa che toglie la possibilità al territorio, ma non solo quello, di creare relazioni. E cosa intendo? Faccio un esempio molto banale. Pensate alla costruzione di un'autostrada, che cosa implica per dei territori coltivati, magari a biologico, e che cosa implica per delle persone che si sono appena trasferite lì e che volevano impostare una certa quotidianità equilibrata con quei posti che hanno scelto per spendere la maggior parte della loro vita lì? Che cosa vuol dire per delle economie locali di prossimità avere 10.000 camion che gli passano a 30 metri sotto casa? Capite bene che tutto quello che prima era possibile viene cancellato con letteralmente un colpo d'asfalto. Ma questa, secondo me, ho l'impressione che sia una dinamica molto generale e anche forse una barra che ci potrebbe guidare per quello che dovremmo fare, cioè dare la possibilità a catene di relazioni di ripristinarsi con l'ambiente, con le società, con animali non umani, magari, e cose che invece stiamo progressivamente perdendo, anche in senso di capacità, se vogliamo. Pensate, e credo che qua sia stato già ampiamente discusso, alla questione degli orsi in Trentino e da quanto il problema in realtà è artificialmente potenziato e quanto invece è relativamente facilmente risolvibile. Perché che cosa implica? Accettare un tipo di relazione con l'ambiente che è diversa da quella che immaginavamo fino a pochi anni fa. Ma c'è la necessità, perché la nostra mancanza di immaginazione, la nostra mancanza di capacità di inclusione porta ai problemi del presente per noi, immediatamente e ovviamente per chi verrà dopo di noi. Ma la cosa più, che io francamente, forse dieci anni fa, quando iniziavo a entrare dentro i contesti di questa lotta non mi aspettavo, è che il cambiamento avviene, o meglio il disastro avviene se noi non entriamo nell'ottica di ampliare il nostro discorso all'interno delle nostre vite, delle vite di qualunque dei presenti questa sera. E quindi davvero dobbiamo muoverci per applicare questi discorsi a tutte le nostre comunità, allargandole in momenti come questo, allargandole nelle piazze, allargandole nelle sedi istituzionalizzate, limitate e barricate come è la COP26 di Glasgow, perché a questo bisogna mirare. Ho detto prima che il coordinamento si muove dal punto di vista tecnico, bene, non vuol dire che il coordinamento proponga la soluzione tecnica, perché c'è stato anche un dibattito molto interessante dentro alcuni del coordinamento proprio su questo. Il dire no a una grande opera vuol dire dire sì a un'infinità di altre possibilità che vengono cancellate. A me fa un po' ridere sinceramente quando viene proposto a questi fantomatici movimenti del no è la possibilità di dare delle alternative al proprio no. Cielo, l'alternativa al mio, anzi, la possibilità dietro al mio no è la possibilità della vita, del lavoro, della dignità delle persone. Quindi questo mi lascia sempre abbastanza sbigottito. Però capisco che appunto all'interno di ragionamenti prettamente tecnici come quelli che ha fatto il coordinamento questa cosa possa essere un'arma a doppio taglio. Entra invece lo è di meno, per fortuna, all'interno di spazi come questo dove possiamo parlare veramente delle cose che contano. E noi da una parte siamo costretti a compartimentare la nostra azione per urgenza, per riuscire a mettere d'accordo delle persone molto diverse tra di loro. Però è insomma estremamente apprezzabile il lavoro che viene fatto qua. Quindi grazie.